segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te in realtà abbiamo visto per ora un attacco frontale sicuramente che è quello che ha rivolto giorgia meloni da quarta repubblica a repubblica al quotidiano repubblica tu con un editoriale ieri hai replicato in modo duro dicendo una cosa sono gli editori l'attacco era era un attacco a un editoriale che avevate pubblicato contro le privatizzazioni come svendita diciamo di patrimonio insomma di pezzi di aziende che servono per atto sono i 20 miliardi di privatizzazioni quindi partiva da lì e diceva non mi faccio addetto meloni non mi faccio dare lezioni di italianità riferendosi agli editori la famiglia elkan stellantis come dire visto che loro hanno era la fiat hanno preso e hanno portato hanno svenduto ai ai francesi ecco ti hai sentito questo attacco e hai risposto insomma con una certa durezza ma qualcuno dice però comunque ve ne occupate poco di stellantis oppure come dice dicono giornali della destra però repubblica attaccava berlusconi i giornali che dipendevano da berlusconi dicendo fate gli interessi di berlusconi ma la democrazia è fatta di regole quando un presidente del consiglio si trova delle domande anche le più scomode io credo che sia giusto che lei risponda alla domanda che noi ponevamo era quella delle privatizzazioni la decisione di vendere parte delle partecipate pubbliche per ottenere 20 miliardi di euro e lei poteva dire di sì e poteva dire di no fra le altre cose il suo ministro urso ieri ha ammesso la volontà di vendere il 13 per cento di poste anziché rispondere all'inchiesta fatta da repubblica lei ha scelto di delegittimare repubblica schiacciandola sugli interessi privati dell'editore di repubblica e questa è una questione di merito profonda perché delegittimare un qualsiasi protagonista del mondo dell'informazione che sia report che sia lilly gruber o che sia repubblica significa violare l'articolo 21 della costituzione o delegittimarlo svilirlo che prevede la libertà di espressione da parte anche dei mezzi di informazione poi si può discutere di tutto ogni obiezione è legittima ma attenzione al sistema delle regole perché in una democrazia il rispetto della libertà di informazione è uno degli architari della nostra vita pubblica poi ogni obiezione è legittima si può discutere assolutamente tutto ma anche da chi la fa il capo del governo il capo del governo deve essere il primo garante della costituzione e della libertà di informazione poi il capo del governo può esprimere delle critiche a repubblica o altri mezzi di informazioni che possono essere discusse legittime ma se delegittima un singolo mezzo di informazione sulla base di interessi privati viola le regole basilari del nostro vivere comune andrea cangini sei stato direttore di giornali sei un giorno